Ciao da Afsim, avevo interesse a fare questo ragionamento con voi, quindi si tratta semplicemente di mie opinioni, non ci sono dei veri e propri fatti da analizzare in questo video, è un dialogo, è una chiacchierata se volete e naturalmente spazio dei commenti qui sotto aperto per le vostre opinioni per dirmi se siete d'accordo e su che cosa oppure no e su che cosa. Vi parlo dal mio punto di vista di quello che è il problema della Juventus ad oggi, in questo inizio 2023, in questa stagione 22-23, ma in questi ultimi anni. Il problema che ci sta portando verso la distruzione, il problema che ci sta portando verso la distruzione, il problema che sta portando la Juve ad un livello di mediocrità, ad abbassarsi ad un livello di mediocrità, per cui non devi più vincere perché va bene anche il quarto posto, non devi più essere tra i migliori perché va bene anche l'Europa League, non devi più dominare ed essere superiore all'avversario perché va bene anche l'1-0 con un pizzico di fortuna, ma proprio solo un pizzico di fortuna. Quelle vittorie occasionali che non sono confortate, che non sono anche confermate, legittimate dalle prestazioni. La distruzione che significa dover comprare ogni volta giocatori costosi, elargendo stipendi più alti della media perché sennò evidentemente non vengono alla Juve quei giocatori e poi avere il problema di gestirli perché non se ne vogliono andare perché guadagnano troppo e nessuno li compra perché guadagnano troppo, ma non rendono abbastanza perché guadagnano troppo. Quindi tutta una serie di problemi pratici che vengono provocati da decisioni prese dall'alto, da persone che però non si possono criticare perché non sbagliano mai finché stanno alla Juve e poi magari vanno all'Inter e vanno al Tottenham e diventano brutti e cattivi, e diventano incapaci, diventano meno male che se ne sono andati, grazie per essertene andato. Cose che leggiamo quotidianamente, giudizi dei tifosi, commenti dei tifosi sui social. Naturalmente i social non sono la fotografia perfetta della tifoseria, né di quella della Juve né di quella di qualunque altra squadra, perché naturalmente ci sono tifosi che non stanno sui social o che sono presenti ma non sono attivi, non parlano di Juve sui social, oppure lo fanno sporadicamente, quindi non possiamo sapere veramente qual è la mappatura della tifoseria juventina, ma possiamo sapere qual è la mappatura della tifoseria juventina sui social. Quindi stando a quello che emerge dai social, che comunque è anche la fotografia del mondo reale, e anche un po' una rappresentazione di quello che facciamo concretamente in carne ed ossa nelle nostre vite quotidiane, sappiamo che c'è una parte di tifoseria della Juventus che io ritengo essere alla luce dei social la maggioranza appunto, che si fa andare bene quasi tutto e si è fatta andare bene quasi tutto in questi anni. E il problema della Juventus per me è questa parte della tifoseria. L'ho detto tra le righe in vari video, ne ho parlato in vari momenti, ma era arrivato il momento dal mio punto di vista, dopo Napoli-Juventus 5-1, di dire in maniera chiara con un video specifico chi è secondo me il responsabile dei problemi della Juventus. Il responsabile della distruzione della Juventus, il colpevole dei problemi della Juventus che stiamo vedendo, osservando e che sono tantissimi, è la tifoseria. Sono i tifosi. Non tutti, ma quelli che appartengono, la maggior parte di quelli che possiamo inserire nella casella, se esiste, dei tifosi vabenisti. I vabenisti stanno distruggendo la Juventus. Chiamateli come volete. Qualcuno li chiama Vatuttobeners, io li chiamo vabenisti, potete chiamarli yes-men, potete chiamarli aziendalisti, anche se aziendalisti non sono. Potete chiamarli filosocietari. Alcuni di loro sono puramente agnelliani, altri sono anche allegriani, altri sono risultatisti, altri sono pure occasionali, perché non mancano i tifosi giuventini che si proclamano tali solo per poter dire che hanno vinto, per avere qualcosa da dire contro qualcun altro, ma non sono veramente tifosi oppure smettono di esserlo a seconda di come vanno le cose. E ci sono anche tanti, tanti tifosi che sono talmente giovani, e non hanno colpe in questo, giovani sia d'età che di tifo, che non hanno visto certe cose che abbiamo visto noi, trentenni, quarantenni, cinquantenni, sessantenni, nella Juventus. Chi segue e ama la Juve da vent'anni, da trent'anni, da quarant'anni, non è un merito. Nessuno sceglie quando nascere, e nessuno sceglie neanche quando e come diventare tifoso, perché spesso ti capita, ed è proprio perché ti capita che è qualcosa di genuino. Quindi non sto dicendo che chi ne ha viste di più ha ragione, perché ci sono anche tra gli anziani i va-benisti, ed anzi, ed anzi quanti ce ne sono. E non so neanche perché poi ci sia questa differenza generazionale con dei punti di contatto così importanti. Però ci sono anche, nell'ambito di questi che io definisco va-benisti, tifosi che non hanno gli strumenti per fare dei raffronti con quella che era la vera Juve. Tifosi che hanno iniziato a tifare con gli ultimi scudetti, o con i nove scudetti, e quindi magari non hanno neanche conosciuto la Juve di Conte, hanno iniziato a tifare la prima Juve di Allegri, e quindi non sanno minimamente la Juve di Lippi, figuriamoci. Non sanno che cos'era la Juve in Europa negli anni 90, ma pure prima, negli anni 80, in Italia e in Europa. Non è questo il punto però. Il punto non è che cosa si sa della vera Juve, della gloria della Juve, che cosa si è vissuto. Ripeto, non c'è da fare neanche delle colpe da attribuire responsabilità generazionali. Il punto è l'atteggiamento. E l'atteggiamento del va-benista è quello per cui va sempre bene tutto. È l'atteggiamento per cui va sempre bene tutto. E quindi perché la colpa è loro? Per un motivo molto semplice. Perché rappresentando la maggioranza, o comunque una grossa fetta di tifoseria, la società, la dirigenza, la dirigenza che è agli ultimi giorni, alle ultime ore, alle ultime ore, Deo Grazia, alle ultime ore, perché il 18 gennaio subentra il nuovo CDA, questa dirigenza, la peggiore che si sia mai vista in una società di calcio, la peggiore che si sia mai vista in una società di calcio, è sicuramente la peggiore dirigenza della storia della Juventus, e sto parlando di Andrea Agnelli, ma anche di Pavel Nedved, e ci aggiungiamo anche, arriva bene, non voglio dire nulla di particolare su Cherubini, che ci si è anche trovato, ma è figlio di una pessima dirigenza, che ha fatto cosa? Ha basato le sue decisioni proprio su quei tifosi. Il meccanismo, il metodo utilizzato da questa dirigenza, per acquistare i giocatori per esempio, ma anche per lanciare delle iniziative, per cambiare gli allenatori, per esonerarli e per confermarli, per richiamarli, per farli ritornare, è stato quello di vendere, vendere la scelta, vendere la decisione, quella di comprare un giocatore, quella di esonerare un allenatore, quella di chiamare un allenatore, quella di confermarlo, ai tifosi. Cioè fargliela subodorare, tramite chi? Tramite i giornali, tramite giornali e giornalisti compiacenti, perché così vanno definiti, compiacenti, che sono quasi sempre acritici, che sono quasi sempre, va benisti pure loro, che sono quasi sempre a supporto di questa narrazione, che non fanno veramente il lavoro che potrebbero fare, che è quello di critica, che è quello di mettere in difficoltà, e quindi per il tramite di questo megaforo giornalistico, questa dirigenza è venuta a conoscenza della qualità e quantità del consenso, del consenso, che i tifosi avrebbero prestato a quella determinata operazione. Quindi esce sui giornali che la Juve è su Di Maria e i tifosi reagiscono, loro registrano la reazione dei tifosi, calcolano la quantità e la qualità del consenso nella tifoseria, e se sono soddisfatti procedono e vanno avanti. Poi ovviamente non è detto che ci riescano, può darsi che l'operazione salti, così come può darsi che hanno dissenso da parte, o un certo dissenso da parte della tifoseria, e l'operazione salta magari per altri motivi, ma fatto sta che si basano sul consenso, perché altrimenti le cose non le fanno. Questa dirigenza ha fatto così, è una dirigenza senza coraggio, una dirigenza senza coraggio, che ha precostituito il contesto dentro il quale è andata poi a fare le sue scelte e a porre in essere le sue decisioni, e a fare le sue operazioni. Non il contrario. Non compro un giocatore anche contro i pronostici, anche con i tifosi che mostrano dissenso, perché dicono ma chi sei andato a comprare, chi è sto sconosciuto, e poi zittisco tutti con i fatti. Prendete per esempio il Milan, o anche il Napoli. Cosa c'è da dire sul Milan? Non rinnova donna Rumma, Maldini non rinnova donna Rumma, anche per non dover sottostare ai diktat del procuratore, e va a prendere Mignan. Chi ha vinto? Lasciando stare adesso gli infortuni di Mignan, chi ha vinto in quel caso lì? I tifosi che magari volevano, dico in generale, c'erano anche, immagino, volevano il rinnovo di donna Rumma, e dicevano ma chi è Mignan? Milan o Maldini? E quindi la dirigenza del Milan. Il Napoli, i tifosi si sono scagliati contro il Napoli, contro Giuntoli, contro De Laurentiis quest'estate, 2022, perché hanno fatto partire Mertens, Insigne e Coulibaly, e hanno preso Kim, Quaraskelia, Raspadori e Simeone. Chi ha vinto? Chi sta vincendo? Chi sta vincendo in questa scelta di coraggio? Se tu sei un dirigente, sai quello che stai facendo. Non hai bisogno che il pubblico ti applauda, non hai bisogno che i tifosi ti dicano va bene, fai così, non hai bisogno del consenso preventivo, il consenso se sei bravo te lo conquisti dopo. Allora di che stiamo parlando? Stiamo parlando della mediocrità, stiamo parlando dei mediocri, perché i mediocri non hanno coraggio, i mediocri non hanno qualità, non hanno competenze, non hanno capacità, e quindi sanno che se vanno avanti rischiano il fallimento, rischiano il dissenso. E siccome il dissenso per un mediocre significa vita o morte, perché il dissenso per un mediocre significa essere mediocre e farlo sapere a tutti, il metodo utilizzato da questa dirigenza è stato invertire le cose, prima gli applausi e poi l'operazione. Perché poi questa tifoseria va benista, è comprovato, e la dirigenza lo sa, che tanto gli va bene lo stesso. Per cui abbiamo visto centinaia di tifosi, migliaia di tifosi, di tutte le età, andare al J Medical ad acclamare Di Maria, ad acclamare Pogba, e poi come sono andate le cose? Che apporto hanno dato Di Maria e Pogba a questa stagione fin qui? Ed è anche colpa di chi li ha presi. Non è soltanto un caso che si sono infortunati e Pogba non ha giocato proprio. Perché certe cose erano sbagliate a prescindere, come dissi io, Di Maria è un errore a prescindere, potesse anche fare due gol a partita, non andava preso. Perché? Semplicemente non devi andare a fare il contratto di un anno ad un giocatore 34enne, 35enne, che sta cercando un pollo da spennare, che sta cercando qualcuno che gli paghi lo stipendio per andarsi a fare il Mondiale. E ha già in testa di tornarsi nell'Argentina. Non andava preso a prescindere. E però che cosa succede poi? Che tanto poi la colpa è dei giocatori. Quindi si fa facile a manipolare una tifoseria che è già manipolata a monte. Ed è di questa tifoseria la colpa principale. Perché se tu hai una dirigenza che sbaglia, ma glielo fai notare e la metti alle strette, metti alle strette sia i dirigenti che anche i giornali, che anche i giornalisti e chi gestisce anche i social, chi crea contenuti. Perché se sai, se i giornalisti, i creators e i dirigenti stessi sanno che c'è una tifoseria che è guardinga, che è attenta, che non lascia passare nulla, che non accetta a prescindere tutto quanto, devono guadagnarselo il consenso. Ma voi, invece, questa tifoseria ha regalato il proprio consenso preventivamente. Dice, vogliamo fare... va benissimo, fatelo, siete bravissimi, non sbagliate mai, fate tutto il contrario di tutto, tanto non sbagliate mai. Questo è stato il grave danno della Juventus. I responsabili sono questi tifosi, purtroppo. E come dicevo, nel mezzo, indirettamente, sono responsabili anche di quella che è stata fin qui la narrazione dei giornali e anche la narrazione di chi gestisce blog, pagine, community e canali che, in quest'ultimo caso, sono anche liberi di dire quello che pensano e, ripeto, massimo rispetto sempre per chi lavora, i miei colleghi, ma anche in buona fede, non è soltanto in mala fede, anche in buona fede, se uno deve scegliere tra dire una cosa impopolare e beccarsi che la gente si cancella dal canale, gli attacchi, gli insulti, i commenti aggressivi, lo scherno, la derisione sugli altri social e dire una cosa popolare che quindi ti dà consenso, scusatemi, ma chi è che sceglie di dire la cosa impopolare? Chi è che va con la faccia contro la tempesta? È raro trovare una persona che faccia questo, è raro trovare delle situazioni come queste. Tutti, me compreso, cerchiamo il consenso degli altri. È connaturato alla natura umana, è connaturato all'uomo. Poi c'è chi ci mette più coraggio, c'è chi è mediocre, c'è chi non lo è e dipende anche dalle situazioni. Ma anche per me essere continuamente visto come bastian contrario è una sofferenza e io tante volte cerco di indorare la pillola perché voglio che il mio messaggio sia efficace e quindi non sempre vi dico il 100% di quello che penso perché se vi dicessi il 100% di quello che penso diventerei inefficace. E allora se ci fosse stata una tifoseria se la Juve fosse stata prevalentemente avesse avuto una tifoseria prevalentemente a di mente aperta e critica con pensiero critico ci saremmo semplicemente confrontati su tante ipotesi su tante situazioni e non per forza uno doveva avere ragione sull'altro e l'altro doveva avere torto. invece si è innescata questa puerile stupida inutile battaglia di prevaricazione per cui c'è tanta frustrazione tanta mediocrità e tanta frustrazione e uno deve avere ragione sull'altro e uno deve dire hai visto o ho avuto ragione io senza l'onestà di dire ho sbagliato perché questi va benisti non sbagliano mai non ammettono mai di avere sbagliato addirittura adesso si critica Spalletti come una persona senza onore e senza eleganza per il suo gesto con Allegri per le dichiarazioni post partita capite? cioè siamo a questo Spalletti che parla di calcio Allegri che non chiede scusa ai tifosi e meglio Allegri non sbagliano mai non ammettono mai l'errore ma come siamo arrivati c'è anche in chiusura questo da dire come siamo arrivati ad avere una tifoseria così probabilmente è specchio della società della società non della società Juventus della società in cui viviamo è una questione culturale di più ampio raggio su più vasta scala ma io credo che ci sia stato anche il lavoro certosino di chi ha manipolato questi tifosi perché i vabbinisti chi sono? sono anche quelli che se critichi Agnelli non sei Juventino se critichi Allegri non sei Juventino se critichi la Juve non sei Juventino il vero Juventino non parla mai male della Juve questa cosa è stata generata come? inventando gli anti-Juventini inventando gli anti-Juventini l'invenzione perché di invenzione si tratta e lo so che ci sono cascato anche io molti me l'hanno fatto notare anche io in passato ho fatto video contro gli anti-Juventini ma certamente certamente ma non è che non esistono del tutto ci sono dei tifosi di altre squadre che odiano la Juve il problema è elevare questa queste persone ecco queste situazioni occasionali a fenomeno gli anti-Juventini non sono un fenomeno non esiste il fenomeno degli anti-Juventini questo è il punto cioè esistono persone che odiano la Juve tifosi che odiano la Juve persone che la pensano in un certo modo ma che male fanno alla Juventus ma che danno fanno alla Juventus anzi ci spingono a migliorarci perché uno vede un anti-Juventino cioè uno che odia la Juve dice io non odio Inter, Napoli, Milan quindi cerco di essere migliori di te grazie per la tua mediocrità perché posso migliorare ci spingono a dimostrare che hanno torto quando dicono per esempio che la Juve ruba sì ma non è che se lo dicono è vero anzi ripeto magari mettono in evidenza che non è vero magari affermano il contrario quindi tutta questa battaglia contro il nemico immaginario degli anti-Juventini che non sono un fenomeno ma sono semplicemente una situazione occasionale ha portato questa tifoseria quella parte tifoseria suscettibile suscettibile ad avere la paura addosso la paura di perdere la paura dell'anti-Juventino la paura di non poter andare in ufficio a scuola o al bar il giorno dopo a deridere il rivale a deridere l'anti-Juventino la paura di essere deriso dall'anti-Juventino e allora nasce scatta il meccanismo per cui se critichi la Juve fai come gli anti-Juventini sei un anti-Juventino e stai spaccando la tifoseria e stai danneggiando la Juventus e quindi non va bene non si può fare e allora che cosa scatta ulteriormente qual è il meccanismo di reazione di autodifesa successivo che va bene sempre tutto che va bene sempre tutto che tutto quello che fa Agnelli va bene perché se non andasse bene quello che fa Agnelli io sarei un anti-Juventino nel pensarlo è questo che si è venuto a creare l'appiattimento della Juventus su delle persone e poi sono le stesse persone Agnelli che dicono che la Juve viene prima di tutto e di tutti è al di sopra di tutto e di tutti però non ha fatto nulla per spiegare e l'avrebbe potuto fare avrebbe avuto i mezzi a quei tifosi va benisti che si stavano sbagliando per dire non va bene che mi ritenete così importante io posso sbagliare sono fallibile e avrebbe anche potuto dire guardate in questo caso io ho sbagliato ho commesso un errore avrebbe potuto in dieci anni più di dieci anni educare la tifoseria invece di accettare tranquillamente perché gli faceva comodo che qualcuno per conto suo per suo conto manipolasse questa tifoseria portandola a ridursi in questo stato ad essere così va benista mediocremente va benista perché gli conveniva perché così aveva il consenso dalla sua parte se lo costruiva e andava bene qualunque cosa avesse fatto e stavano già pronti tutti quanti ad applaudire a qualunque cosa il vero problema della Juventus è questa tifoseria va benista che ripeto poi purtroppo è una questione anche di di condizione culturale e sociale cioè ci sono persone che sono suscettibili in questo ci sono persone che avevano la predisposizione a diventare tifosi va benisti però sono stati manipolati quindi sono colpevoli ma non al 100% perché sono stati anche indotti a questo però poi alla fine se la Juve è in fase di distruzione da anni da anni con una gestione malsana una gestione malsana i cui tratti ho brevemente descritto prima è perché esiste quindi non è neanche tanto la tifoseria in sé e quelle persone ma è l'esistenza di questo fenomeno di questa tifoseria di questa parte della tifoseria va benista che accetta tutto di buon grado tutto il contrario di tutto giustifica l'ingiustificabile e si scaglia contro altri tifosi della stessa squadra rei di avere semplicemente criticato di aver avuto semplicemente una coscienza critica di aver avuto semplicemente un'opinione diversa magari intravedendo in quello il bene della Juve un bene superiore nel medio e lungo periodo non nel breve periodo lontani dalle singole vittorie che ti fanno gioire un momento e poi sei punti a capo ma più vicini a quella che è stata la gloria di un tempo di una Juve che a prescindere dai risultati era forte e otteneva i risultati perché era forte qui invece si cerca di ottenere i risultati senza essere forti anzi non devi essere forte perché se no ha ragioni Adani perché se no hanno ragione gli anti-juventini che serve il bel gioco perché se no hanno ragione i napoletani ha ragione Varriale ha ragione Sarri questa è la situazione in cui siamo per non dar ragione al nemico che non è nemico abbiamo torto noi ci mettiamo dalla parte del torto ci limitiamo ci sostanzialmente andiamo andiamo a tagliare quelle che sono le nostre potenzialità da soli da soli le nostre potenzialità di essere una squadra che domina perché la Juve non può dominare dove sta scritto perché Allegri dice che è così e quindi non puoi dare torto da Allegri e torniamo come vedete al discorso di prima è un cane che si morde la coda è un circolo vizioso come si rompe come si supera questa situazione serviranno anni serviranno anni di duro lavoro perché quando si tratta di educazione di cultura serve sempre un sacco di tempo e un sacco di lavoro non lo fai in poco tempo intanto una prima cosa è stata fatta Agnelli out adesso resta Allegri out ma spero che non dobbiamo arrivare anche alle misure più drastiche cioè Exor out cioè Elkan out perché bisogna ancora capire e lo vedremo con la nuova dirigenza che aria tira che opinione c'è che modus operandi se dovesse essere più o meno lo stesso e non è impossibile visto che in tutti questi anni come proprietà Exor c'è stato e non qualcun altro allora non basterebbe neanche Allegri out dopo Agnelli out ma servirebbe completamente consegnare la Juventus a qualcun altro totalmente a qualcun altro e poi quello quell'evento importantissimo nel caso porterebbe la tifoseria a mettersi in discussione che sarebbe già qualcosa di fantastico e a ricollocarsi a ricalibrarsi alla luce della nuova Juventus che nascerebbe e sta nascendo una nuova Juventus vedremo confidiamo nella nuova dirigenza che ci proponga qualcosa di radicalmente diverso per risolvere il problema radicale appunto della Juventus che è la tifoseria va benista come detto ditemi la vostra nei commenti questa è la mia opinione fatemi sapere come la pensate e mettete like al video se vi è piaciuto naturalmente grazie per l'attenzione a prescindere iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video se ancora non l'avete fatto abbonatevi a partire da 99 centesimi al mese per avere tanti vantaggi tra cui le chat le chat live durante le mie live reaction e durante i miei commenti in diretta post partita chat qui su youtube in esclusiva e iscrivetevi anche al mio secondo canale Avsim Out primo link in descrizione per video veloci sul calcio e sulla Juventus ci vediamo molto presto e sempre forza Juve grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti